Oroscopo del giorno Domenica 28 marzo 2021 Ariete Amore In questa ultima domenica di marzo la luna sarà in opposizione e proprio per questo motivo l'umore non sarà troppo alto. Ciò vale a dire che nei rapporti potrebbe esserci qualche piccola incomprensione o tensione. Lavoro Energie poco efficienti per quanto riguarda il lavoro. Ci sarà bisogno di maggiore ottimismo. Toro Amore Oggi potreste essere particolarmente intuitivi. L'ultimo giorno di questa settimana comunque non regalerà troppe novità per quanto riguarda i sentimenti. Chi ha il cuore libero da impegni probabilmente dovrà attendere un momento migliore. Lavoro Mercurio potrebbe portare un bel entusiasmo sul posto di lavoro. Giornata favorevole Gemelli Amore Venere Venere sarà dalla vostra parte ed oggi potrete contare sulla sua posizione per le relazioni d'amore. In questa domenica potrete contare quindi sulle stelle per godervi le emozioni di coppia. Bene pure i single che vogliono avvicinarsi a qualcuno. Lavoro Occhio a come vi comporterete con i vostri colleghi perché potrebbero esserci delle incomprensioni. Cancro Amore In questa giornata di fine mese l'umore sarà a terra e sarete anche particolarmente agitati e nervosi. In questa domenica dovrete cercare di gestire bene emozioni e sensazioni con la persona che avete al vostro fianco. Lavoro Tensioni pure per quanto riguarda progetti e collaborazioni di tipo professionale. Leone Amore Questa sarà una bella domenica. Per le relazioni stabili e durature non ci saranno grandi problemi. L'amore proseguirà a gonfie vele. Per i single che vorrebbero invece vivere delle nuove emozioni potrebbe essere il momento giusto. Lavoro Nonostante non per tutti sia un giorno lavorativo sarà una giornata veramente ricca di energia positiva. Vergine Amore Studerete questa settimana nel migliore dei modi con delle stelle che porteranno un bel equilibrio per i rapporti. Ci sarà una fantastica complicità con il proprio partner. Interessante il cielo dei single che oggi potrebbero ricevere anche una sorpresa. Lavoro Potrebbero esserci dei disagi perché Mercurio sarà in opposizione e non vi aiuterà affatto ad affrontare certe questioni. Bilancia Amore In questa giornata potrete recuperare un po' dopo alcuni giorni non troppo piacevoli. Si ritroverà infatti un po' di buon umore e l'equilibrio di coppia che era mancato. Così che anche chi è solo possa muoversi tra nuove emozioni e l'inizio di un sentimento. Lavoro Potrebbe essere una domenica di novità e belle notizie. Dovrete approfittarne. Scorpione Amore Questa domenica sarà buona e tranquilla per le relazioni d'amore. Chi ha una persona speciale al proprio fianco potrà godersi un giorno sereno e di equilibrio con chi ama. Non ci saranno problemi nemmeno per i single che vogliono fare passi in avanti. Lavoro Le stelle saranno abbastanza interessanti perché potrebbero esserci delle novità inaspettate. Tagittario Amore L'ultima domenica del mese di marzo sarà decisamente interessante ed entusiasmante per i sentimenti. Oggi infatti potrete vivere delle emozioni speciali con il partner o con qualcuno che avete appena conosciuto. Che bella giornata! Lavoro Potrete approfittare della domenica per riposarvi dopo una settimana piena di impegni professionali. Capricorno Amore Questa sarà una giornata tranquilla e potrete quindi chiudere la settimana in maniera abbastanza serena. Con il partner ci sarà equilibrio e non mancherà nemmeno la complicità. Difficilmente però ci saranno grandi novità in amore. Lavoro L'impegno ripaga sempre e i risultati continueranno ad arrivare. Che soddisfazione! Acquario Amore Le stelle di oggi parleranno di futuro per le relazioni che hanno intenzione di pensare al domani insieme. Progetti e passi avanti da fare insieme alla propria dolce metà. Ottimismo in campo per chi è ancora single. Lavoro Tranquilla la domenica lavorativa per chi sarà impegnato con compiti e progetti pure oggi. Pesci Amore In questa giornata di fine marzo le stelle saranno dalla vostra parte. Se avete un partner al vostro fianco tutto sarà tranquillo e sereno dal punto di vista dei sentimenti. Forse non sarà proprio il giorno perfetto per la nascita di un nuovo amore ma chissà. Lavoro La posizione interessante di Mercurio potrebbe portarvi interessanti novità. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. La 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 Grazie a tutti.